Gela, cimitero monumentale, pochi passi dal centro storico, dal salotto della città. Prestigiose cappelle storiche, antichi monumenti e sepolcri che raccontano la vita e la storia di una comunità. Un campo delimitato da mura che appare abbandonato da tutti, se questo è un cimitero. Le sterpaglie crescono ovunque, talvolta ostacolano o impediscono addirittura il passaggio a piedi tra i viali dove riposano i nostri cari. Negli spazi aperti in cui riposano defunti che hanno avuto la loro degna sepoltura in un campo senza monumenti e senza coperture, l'erbaccia è alta ormai più di un metro. È tutto un trionfo di squallore e degrado. Non si distingue più il sacro spazio, per chi crede nell'aldilà è uno spazio sacro, sì, tra il luogo della sepoltura e lo spazio per rifiuti e sterpaglie. Non osiamo nemmeno immaginare cosa potrebbe accadere qualora accidentalmente un mozzicone di sigaretta finisse in uno di questi spazi di erba secca. Umiliazione, indignazione, vergogna, difficile distinguere il sentimento prevalente. Non vi è traccia di rispetto per la memoria storica di un popolo, ma si sa spesso l'uomo ha la memoria corta e questa rappresenta la madre di tutti i disastri, inebria di senso di onnipotenza e immortalità e ci allontana dalla realtà, dal confine tra la vita e la morte, se questo è un cimitero. E' molto degradante vedere una situazione del genere, tra l'altro dovremmo ricordarci tutti che, così come diceva mia madre e comunque altri congiunti, la vera casa dovrebbe essere questa. Se questo è il modo di poter ospitare tutti noi, è veramente una vergogna. Basta vedere le immagini, vedere la sterpaglia che c'è, le tombe, specialmente quelle che sono messe a terra, come dire, non hanno nessun rispetto per queste tombe, per queste anime. Dovremmo sapere tutti che un giorno o l'altro saremo tutti qua. Senza contare che questo cimitero monumentale è veramente molto antico, potrebbe addirittura essere visitato per le cappelle, i monumenti che sono custoditi all'interno di quest'area. Questo dovrebbe essere un fiore all'occhiello, tra l'altro il cimitero monumentale, essendo che si trova proprio al centro della città, che difficilmente oramai ce ne sono, perché oramai, come sappiamo, tutti i cimiteri sono al di fuori, dovrebbe rappresentare proprio una carta di identità per la città di Gela. Non vorrei che questa carta di identità, appunto, è quella che poi di fatto è Gela, quindi è degradata in tutti i settori e purtroppo anche il cimitero è degradato.